Tuturutututurutututuru tutututututurututututututuru Ciao a tutti da Svideogame Allora, di cosa vi devo parlare oggi? Devo parlare che domenica, domenica, 2 agosto, dove sarò? Sarò a Genova, insieme a DJ Jacky Gamer 95 Nome lunghissimo per noi youtuber Comunque saluto DJ Jacky Praticamente, cosa succederà? che io sarò là o Genova a Piazza Principe, sarò in stazione lì da intorno alle 11, intorno alle 11 di mattina, cosa faremo? Andremo in giro per Genova di qua e di là facendo video, cazzeggiando, poi DJG chi farà i suoi contest, quindi qualcuno potrà vincere qualcosa. Quello che vi volevo dire è che se qualcuno vuole essere lì con noi, con me, Svideogame e DJG chi gamer 95, e se ci saranno degli altri, adesso non so di che preciso chi c'è, comunque se volete essere dei nostri, cosa dovete fare? Se siete lì di Genova o di zone limitrofe, che fate? Venite insieme a noi, venite insieme a noi, vi trovate lì alle ore 11, Piazza Principe e niente, non è un raduno, non è un incontro, è un incontro, io vado intanto a salutare DJG chi che però avverrà anche con altri suoi amici e niente, quindi dicevo però se qualcuno, non so dei miei, perché non so mai di preciso di dove siete raga, di che zone siete, quindi se c'è qualcuno vicino a Genova che vuole venire, insomma ripeto, ore 11, ore 11 abbiamo detto, Piazza Principe, poi DJG chi sarà lì anche prima forse, comunque adesso vediamo, non lo so, adesso farà un video anche lui su questa cosa, quindi domenica 2 agosto, ore 11 e niente, se volete trovarci, che avete l'opportunità anche di partecipare al contest di DJG chi, oppure anche solo, tanto per conoscere me come youtuber, oppure DJG chi, tutto qua, e niente, è una semplice, un giro in giro, lì a Genova, se vi va di esserci, di essere dei nostri, insomma, tanto di cappello, e niente, devo dire dell'altro, non so, non so cosa dire, beh, io ringrazio sempre tutti i miei iscritti, voglio salutare tutti i miei amici, tutti i miei amici, in generale, sia gli amici che ho visto, ho incontrato al Raduno, di Milano, quelli che ho incontrato al Raduno di Bologna, in generale voglio salutare tutti i miei iscritti, voglio salutare tutti quelli che seguono il mio canale, e niente, ci vediamo presto, ciao!